Senti, uno dei tuoi primi personaggi sicuramente è stato Felice Allegria. Sì, quello l'ho fatto in televisione nel 1967-68. Vediamolo, che domenica amici, vediamolo subito, dai. Io venivo da qui, lui veniamo. Guarda, guarda. Veniamo entrambi in così. È fortissimo. A momenti cadevo lì. Andando vicino. Andando vicino. Fai rumore perché ha da seconda mano. Giovanotto, lei è in contravvenzione. Che fa? Concilia? Che vuol dire? Che lei è in contravvenzione, quindi deve pagare la multa. Che fa? Concilia? Che vuol dire? Vuol dire che con il semaforo rosso non si passa. Vede? Quello è un semaforo. Dov'è? Dov'è? È un semaforo. Lo posso vedere? Bello. Fa l'arbero di Natale, c'hai le luci. E che fa? Mi fischia sul naso, mi fa vento, c'ho alzio inusite. Lo vede? Lo vede? Quelli lì con il semaforo rosso si sono fermati tutti quelli lì. E che me importa a me? Mica sto con loro. Ma com'era nato questo, questo live? Ma quello è nato in un teatrino, nel teatrino quello proprio di Lando Fiorini che ci ha lasciato pochi giorni fa, pochi giorni fa. Con un affetto enorme. Lando, io studiavo danza e lui mi disse, io fa un cabaret. E dico, lo fammo insieme. Ma l'abbiamo fatto veramente? Perché c'erano i calcinacci, bisogna... Quindi mettevamo a posto. E c'era il fratello Nando, che aveva una piccola impresa di ristrutturazione, gli diceva sempre là, fammi una pizzeria che è meglio. Invece lui fece questo puff e io cominciai lì e lì è nato questo, osservando i romani finti tonti, che diceva, io non lo so, dove va andato? A un certo punto io venivo così, lui neanche così, venivamo entrambi così. Lui nel vedermi a me e me, che poi faceva questo gioco con le pronomicelle, l'italiano mi divertiva, si deve avere pensato che io mi fossi pensato, che lui se pensava, che io mi pensavo che, ah, siamo andati a sbattere. Nasce questo, tutte le serie, facendo questo personaggio, là vengono a vederci Castellano e Pipolo, che facevano i testi, gli autori di Che Domenica Amici, e poi a Milano facemmo il provino. E si è resa subito conto che la gente cominciava a parlare in questo modo, che era un personaggio che era entrato immediatamente nel cuore. Che vuoi dire? Napocalisse! Napocalisse! Assolutamente! Il primo grande successo.